ciao bimbi eccoci nel nostro spazio dieci minuti al libro aperto la lettura che vi propongo oggi è pennington giardiniere è un libro che mi ha prestato guglielmo per cui grazie una mattina pennington uscì in giardino e si mise a scrivere un elenco di tutte le cose belle che gli erano successe da quando viveva con brown aveva una stanza tutta per sé un letto caldo in cui dormire la mattina a colazione c'era sempre tanta buona marmellata d'arance mentre in perù poteva mangiarla solo la domenica ben presto l'elenco si fece così lungo che che la carta quasi non bastava e fu proprio in quel momento che pennington si accorse di aver dimenticato una delle cose più belle di tutte il giardino stesso all'infuori di quel rumore che di tanto in tanto proveniva da un cantiere lì vicino il giardino era un luogo tranquillo e silenzioso non sembrava nemmeno di essere a londra i giardini così belli però non nascono per caso in genere richiedono molto lavoro e quello al 32 di winsell garden non faceva eccezione il signor brown doveva tagliare il prato due volte la settimana mentre la signora brown estirpava le erbacce dalle aiuole c'era sempre qualcosa da fare e anche la signora beard dava una mano quando aveva un momento libero fu proprio la signora beard la prima a suggerire a jonathan judy e pennington venisse affidata una parte di giardino ciascuno terrà un certo orso lontano dai guai disse riferendosi a chissà chi e poi sarà divertente anche per jonathan e judy il signor brown la trovò un'ottima idea e creò tre recinti in un angolo del prato pennington era molto emozionato non credo ci siano molti orsi che possono vantare un giardino tutto per loro esclamò il mattino dopo di buon'ora si misero tutti al lavoro judy decise di creare un'aiuola fiorita mentre jonathan aveva ad occhiato delle vecchie piastrelle di pietra pennington invece non sapeva cosa fare aveva sempre pensato che il giardinaggio fosse un'attività molto difficile soprattutto se si hanno quattro zampe così armato di un barattolo di marmellata fatta dalla signora beard prese in prestito la cariola del signor brown e uscì in cerca di qualche buona idea la prima tappa fu il mercato dove comprò il libro di un certo lionel trung intitolato come progettare il tuo giardino lo vendevano insieme ad una grossa busta di semi assortiti e stando alla copertina non c'era da millavigliarsi se il signor trung aveva quell'aria allegra svolgeva gran parte della sua attività sdraiato su un'amaca alla fine del libro senza aver sollevato un dito era circondato da una miriade di fiori pennington decise che il libro era un buon acquisto soprattutto quando il proprietario della bancarella gli diede come resto una moneta da due penni il libro del signor trung era pieno di consigli utili il primo diceva che per che prima di iniziare a lavorare era bene chiudere gli occhi e cercare di immaginare il giardino dei propri sogni dopo essere andato a sbattere contro un lambione pendington decise di leggere altre due pagine e fu proprio in quelle che trovò un'idea decisamente migliore il signor trung consigliava di allontanarsi e osservare il giardino da una certa distanza preferibilmente da una posizione sopraelevata e lui conosceva il luogo perfetto quando raggiunse il vicino alla casa dei brown era a metà mattina e i moratori erano tutti in pausa mise al sicuro il barattolo di marmellata sopra un asse di legno e si sedette su una pila di mattoni per riflettere con calma in giro non si vedeva nessuno e vicino a lui c'era una scala il signor trung aveva proprio ragione visto dall'alto il giardino dei brown appariva molto diverso pendington fece però in tempo ad aprir bocca che da lontano sentì accendersi un motore sbirciò attraverso il buco fra le assi e per poco non gli uscivano gli occhi dalle orbite a terra sotto di lui un uomo un uomo stava svuotando un carico di cemento proprio nel punto in cui aveva lasciato il suo barattolo di marmellata pendington scese dalla scala la massima velocità consentitagli dalle zambe raggiungendo l'ultimo piolo nell'istante in cui il capomastro voltava all'angolo c'è qualcosa che non va gli chiese l'uomo sempre preoccupato hanno seppellito il mio barattolo esclamò pendington tutto agitato indicando l'ammasso di cemento che tra l'altro conteneva il tesoro della signora beard non ti chiederò come abbia fatto il barattolo a finire lì sotto chiese il macco il capomastro rivolto a pendington mentre i suoi uomini si mettevano al lavoro per spaccare il cemento in pezzi più piccoli né cosa ci facessi tu sulla scala e io ring e io la ringrazio signore rispose pendington sollevando educatamente il cappello all'improvviso dall'alto si udì uno strano ronzio e con sua grande sorpresa pendington vide l'asse con il barattolo scendere fino alle sue zampe la mia marmellata d'arance esclamò riconoscente la tua marmellata d'arance ripete il capomastro con lo sguardo fisso sul barattolo hai davvero detto marmellata d'arance esatto rispose pendington l'aveva messa da parte per lo spuntino di metà mattina deve essere stata tirata su per sbaglio o no il tappo si è aperto adesso toccava il capomastro fare la faccia di chi non riusciva a credere ai propri occhi questo è cemento a presa rapida si lamentò probabilmente si è già solidificato rovinato dalla marmellata di un orso e ora chi mi ripaga il danno nessuno mi darà nemmeno due penni io sì si offrì pendington endusiasta ho avuto un'idea pendington fu impegnato per il resto della mattinata quando i muratori videro il giardino roccioso che aveva costruito rimasero molto colpiti e il capomastro gli regalò persino delle piante per completarlo finché non fossero germogliati i semi sabato c'è il concorso nazionale per il giardino più bello gli disse ci saranno dei giudici molto famosi spargo la voce non si sa mai magari avrai fortuna il capomastro mantenne la parola data e il sabato seguente mezzo vicinato si presentò al 32 di winston garden per assistere all'arrivo dei giudici ci mancò poco che pendington cadesse dalla sorpresa quando in testa al gruppo vide niente di meno che il signor lionel trung in carne osta sono contento che tu sia sceso dall'amaca signor trung gli disse io un po meno rispose lionel trung piacere di conoscerla devo ammettere che le sue pietre arancioni sono veramente belle dove le ha trovate non le ho trovate rispose pendington sono loro che hanno trovato me grazie ai muratori congratulazione disse il signor trung premiando pendington con una stella dorata è bello vedere un giovane orso che si dedica al giardinaggio spero che lei sia il primo di una lunga serie chi lo avrebbe mai detto fece il signor brown dopo che anche l'ultimo dei presenti se ne fu andato devi scrivere a zia lucy e raccontarle tutto suggerì la signora beard saranno felicissimi di ricevere la bella notizia alla casa di riposo però orsi in pensione pendington pensò che fosse una buona idea ma prima c'era un'altra cosa che doveva fare voleva aggiungere un altro punto importante all'elenco di tutte le cose belle accadute da quando viveva con i brown avere il mio giardino roccioso personale poi mise la sua firma e aggiunse uno speciale timpro a zampa per garantire che fosse autentica allora bimbi quest'altra storia è terminata vi do appuntamento a domani sempre nel nostro spazio 10 minuti al libro aperto con la lettura di un'altra bellissima storia ciao e a domani